Bentornati sul Fantavirus e benvenuti in un nuovo video. Oggi vediamo i consigli di formazione per la ventitresima giornata di campionato, un turno lunghissimo che parte di venerdì alle 18.30 con Fiorentina Spezia e termina di lunedì con Juventus Crotone. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non fossi iscritti e lasciare mi piace a questo video. Iniziamo la nostra analisi. Come ho anticipato la prima partita è Fiorentina Spezia e si gioca alle 18.30 quindi attenzione 18.30 di venerdì quindi facciamo molta attenzione all'orario e al giorno in cui bisogna schiare la formazione. Drongoschi si può mettere però tenete presente che minimo un gol lo andrà a subire mentre Provedel. Portieri di seconda fascia rispetto a Drongoschi anche lui si può mettere perché non dovrebbe subire la goleada. Nella Fiorentina in difesa mettiamo Milenkovic, si può mettere anche Pezzela mentre possiamo evitare Martini e Squarta che però se vediamo che parte titolare quando ci saranno le formazioni ufficiali se lo avete si può mettere in panchina perché comunque ci andrà a coprire e garantirci il voto in una giornata davvero molto lunga. Biraghi non è in un buon momento di forma ma si può mettere comunque perché è un esterno in centrocampo mentre Venuti si può evitare a centrocampo. Buonaventura meglio di Gastrovilli che a sua volta è meglio di Amrabat si possono mettere comunque tutti e tre. In attacco Vlaovic è da mettere, rigorista e prima punta da mettere senza troppi problemi. A suo fianco dovrebbe esserci Eiseric che possiamo lasciare tranquillamente in panchina. Nello Spezia mancherà Bastoni che è il difensore più affascinante da fantacalcio, proprio per questo non possiamo mettere nessuno. I difensori centrali Ismaili e Chabot si possono evitare. A centrocampo invece possiamo mettere Ricci perché è probabile rigorista maggiore che è molto in forma e assegnato anche all'ultima. Estevez si può evitare, Zaponara invece è da mettere perché gioca in attacco. A Gudelo in ballottaggio con Zola ne giocherà solo uno. Se gioca si può mettere così come se Zola gioca si può mettere in Zola. Jazz invece è quella prima punta che ci garantisce il voto e che quindi possiamo mettere in panchina a coprirci. Passiamo adesso ad un'altra partita molto difficile, Cagliari-Torino. Due squadre che quest'anno si trovano in bassa classifica e due squadre a cui la vittoria manca da molto. Il Torino non vince da ben otto partite mentre Cagliari da ben quindici. I portieri Cranio e Sirico possono essere schierati ma più per il Crescit sono schierabili per il voto. I difensori centrali ci comportiamo come se fosse un big match, li evitiamo e mettiamo quei giocatori che possono portarci il buon voto e il bonus. Nel Cagliari mettiamo i tersini di spinta, per lo più Zappa nel Torino invece possiamo mettere sia Singo che Anzaldi. Nel Cagliari, attenzione a centrocampo a Nandes che lo scorso anno ha segnato due gol in campionato entrambi al Torino. Quindi si può mettere perché comunque il 6 ce lo può portare comunque a casa. Negolano agisce sulla trequarta e si può mettere. In attacco Simeone e Ceopetro entrambi possono essere schierati, soprattutto Ceopetro che è anche rigorista nel Torino. Il centrocampo lo possiamo evitare, composto da Mandragora, Rincona e Lugic al massimo possiamo metterli in panchina perché comunque ci garantiscono il voto. E in attacco Belotti va messo sempre che l'andata ha fatto due gol e Zazza che dovrebbe partire titolare che se lo avete si può comunque mettere visto che storicamente con la maglia del Torino ha fatto gol al Cagliari. Passiamo a Lazio-Sampdoria, la Lazio che vorrà ribaltare il 3-0 dell'andata oltre che riscattarsi per la sconfitta per 3-1 contro l'Inter. Reina si può mettere, può essere un portiere che può fare realmente molto bene in questa giornata ed è consigliato, meno consigliato a Udero visto che la Lazio quando riesce a mettere la partita nel verso giusto fa più di un gol. Nella Lazio in difesa troveremo Acerbi, Barolo, Musacchio, l'unico schierabile è Acerbi. A centrocampo, Fares si può evitare, meglio Marusic, ricordiamo che Lazio è risqualificato. Luis Alberto, Milinkovic da mettere praticamente sempre, Immobile, sì, ovviamente, non lasciatevi condizionare che è l'ultima, non ha segnato. Ballottaggio con Re che è seto, dovrebbe giocare con Re, attenzione perché è anche un ex e si può mettere. Nella Sampdoria, in difesa, eviterei i difensori centrali. Augelo può essere il migliore dei suoi, è anche segnato all'andata facendo anche un assist, però non mi aspetto bonus da lui. Qui si può mettere invece Candreva che è un ex molto importante della gara, evitiamo. Ektal e Torsby, Youngton si potrebbe mettere in panchina vista la difficoltà della gara, poi fate le vostre valutazioni in base alle vostre scelte. Quagliarella, si può schierare, sì, ma non gli aspetta una partita facile, attenzione perché nelle ultime partite con Ranieri è sempre in ballottaggio. Keita invece è un ex e si può mettere. Passiamo adesso a Genoa-Verona, una partita difficile nella quale mi aspetto che il Genoa porti i punti a casa, visto che storicamente contro il Verona di Juric il Genoa riesce a far punti. Però per questo in questa giornata si può preferire Perina-Silvestri che nell'ultime occasioni non è stato eccezionale. Nel Genoa i difensori centrali però sono evitabili, che sono Masiello, Radovanovic e Goldaniga. Si può mettere Zappacosta così come Ciborra dall'altro lato, sia Strotman per il 6,5, si può mettere anche Zajic. Davanti ci saranno, con tutta probabilità, Destro al 100% e Shomurdov che è in ballottaggio con Pandev. Comunque, attenzione a Mattia Destro che è da mettere senza farsi troppi dubbi in questa giornata perché è anche potenzialmente un rigorista vista l'assenza di Mimmo Criscito. Nel Verona invece evitiamo i difensori centrali, possiamo mettere Faraoni che quest'anno non ci sta fornendo più le solide garanzie dello scorso anno, ma comunque si può mettere essendo un difensore che gioca a centrocampo. Si può mettere anche Lazovic e si mettono assolutamente Baracca e Zaccani. Attenzione a Kevin Lasagna che non avrebbe l'ottaggio di Kalinic, non ha ancora segnato quella nuova maglia e che, attenzione, potrebbe essere proprio questa la giornata giusta. Quindi, se lo avete, fateci un pensierino. Passiamo adesso al derby di Emilia, Sassuolo, Bologna. Fra i portieri consigli e Skorupski, preferiamo consigli perché ci offre più garanzie anche in termini di voto. E ricordiamoci che questo match negli ultimi anni è stato quasi sempre vinto dal Sassuolo. In difesa per la squadra nero-verde possiamo mettere Muldur e Ferrari. Si può mettere Lovocatelli per il 6,5 centrocampo? Sì, sulla tre quarti a Djuricic e Traoré, anche se Djuricic non è in un momento di forma eccezionale. Berardi è tornato a gol all'ultima, si può confermare. Si mette anche Ciccio Caputo senza troppo i problemi, che anche lui è assegnato all'ultima. Nel Bologna in difesa mettiamo il solito Miasu, che è l'unico che ci dà certezze. Schoten e Svanberg possono essere evitati. Mettiamo Soriano. Si mette anche Orsolini. E si mette Barrovo da prima punta. Passiamo adesso a Parma-Udinese. Fra i portieri Sepe e Musso, che sono entrambi schierabili, preferisco Musso, visto il pomento nero del Parma, che cerca disperatamente una vittoria per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Entrambi i portieri hanno davanti degli attacchi che non sono fantasmagorici, però l'attacco dell'Udinese segna leggermente più gol di quello del Parma. Quindi si può preferire Musso a Sepe. Nella difesa del Parma eviterei tutti i giocatori. Si può mettere al massimo Gagliolo in panchina perché ci garantisce il voto. Ed è comunque il migliore. Fra Conti, Bani e Osorio. A centrocampo, sia Kuzka che anche Rigorista, si può mettere Kurtic e evitiamo Brugman. In attacco l'unico schierabile è Gervinio non consigliatissimo. Nell'Udinese invece in difesa mettiamo Newtink senza farci troppi problemi. Si può mettere anche Samir. Più attenzione per Bonifazi che si può lasciare fuori. Attenzione anche a Strigelars e Zeglar che possono essere schierati. De Paul a centrocampo nell'Udinese va messo su tutti. Va messo al 100%. Evitiamo invece Arslan e Wolas. In attacco ci saranno Lofeo e Giorrente che in leghe numerose possono essere schierati. Rappresentano un buon terzo slot. E chissà che Diego Giorrente non torni. O meglio, non arrivi il primo gol con le amaglie dell'Udinese proprio contro il Parma. Passiamo adesso al derby di Milano. Milan-Inter, i portieri sono Donnarum e Andanovic, due top di repasto che meritano di essere schierati anche in questa partita. Sempre che voi non abbiate una clamorosa alternativa in porta che abbia una partita nettamente facile. Nel Milan mettiamo in difesa Teo Hernandez senza dubbi. Più dubbi su un Calabria che comunque ci può stare a metterlo. Evitiamo invece Romagnoli e Kier. A centrocampo torna Benazer che comunque si può evitare visto che non porta bonus. Si mette invece che sì, che oltre il 6 ci può portare anche un bonus magari su rigore. Sulla tre quarti mettiamo Leao. Mettiamo anche a cancella Noglu. Possiamo evitare Salma Gers che in caso di scarse alternative si può anche mettere. In attacco Slaten Ibrahimovic da mettere sempre. Nella difesa dell'Inter possiamo mettere De Vrij mentre possiamo evitare, secondo me, Bastoni e Skriniar. Si mette Akhimi senza troppi problemi. Si può mettere Barella per il 6 e il resto dei centrocampisti si può evitare. E in attacco Lautaro Martinez e Lukaku possono essere messi entrambi ovviamente con priorità Lukaku. Passiamo adesso ad Atalanta-Napoli. Un Napoli con tantissime assenze. Manca Koulibaly, manca Manolas, manca Uspina, Lozano, Mertens e Petagna. E praticamente con gli uomini contati sappiamo sostanzialmente chi andrà a giocare. Nell'Atalanta invece ci sono i titolarissimi a parte Ateboer. Proprio per questo, fra i portieri Gollini e Meret, credo che Gollini possa far meglio, visti i numerosi assenti in casa Napoli. Per lo stesso motivo si può mettere Romero. Più dubbi su Jim City e Toloi. Gosens da mettere assolutamente. Mahele è un quarto slot in questa giornata. Froiler, storicamente segna anche al Napoli, ma lo andrei a mettere in panchina che ci garantisce il voto. Stesso discorso per Terun. Sulla tre quarti potremmo trovare Pestino, ma attenzione, soliti ballottaggi con Malinoski, Pasalic e Mirancic. Possono essere schierati tutti, sì, ma solo se siete ben coperti. In attacco, Ilicic Zapata dovrebbe essere la coppia. Attenzione al Muriel che anche lui è da mettere. Nel Napoli, difensori centrali Maximovic-Ramani, che comunque non mi fido di metterli contro l'attacco stellare. Dell'Atalanta, sebbene abbiano fatto benissimo, contro la Juve. Di Lorenzo, quarta, quinta scelta in questa giornata, Mario Ruiz è evitabile. A centrocampo Ruiz, Bagaiuco, possono essere evitati. Si può mettere invece Zielinski, che agirà come trequartista. Si mette assolutamente Politano, che giocherà al posto di Lozano, assente per infortunio. Si mette Insigne, che il capitano è rigorista e attualmente è l'uomo più forte, più talentuoso di questo Napoli. E quindi sarà lui a trascinare la sua squadra. In attacco, prima punta a Osime, non ci sono dubbi sul ballottaggio. Se lo avete si può mettere, però non ci ha dato tantissime garanzie. Passiamo adesso a Benevento-Roma, fra i portieri Montipò e Paul Lopez. Preferiamo ovviamente il portiere della Roma, che in questa giornata può essere tra i migliori portieri da schierare. Nel Benevento evitiamo i difensori centrali. A centrocampo possiamo mettere Viola, che ha segnato anche l'ultimo e anche il rigorista, e quindi merita di essere messo. In prota, da evitare, possiamo lasciare da parte anche Caprari. Se proprio volete un attaccante del Benevento, potete mettere la Padula, ma non è consigliato. Nella Roma possiamo mettere Mancini, che sta facendo una stagione strepitosa. Evitiamo Cristante, si può mettere anche Ibanez. Karsdorp e Spinazzola sugli esterni sono da mettere assolutamente. Vere tu, deve essere confermato per ovvi motivi. A suo fianco troverete Villar, che se lo avete si può mettere in panchina, giusto perché ci garantisce il voto. Mkhitaryan, Pellegrini, da mettere senza troppi dubbi. In attacco, solido balottaggio, Maioralo o Dzeko, chi gioca? Non lo sappiamo, la partita si gioca anche di domenica 0 attualmente. Se potete schierarvi entrambi, schierateli. In modo che avete sicuro il titolare della Roma contro il Benevento, che parte dal titolare, e l'altro invece partirà dalla panchina. Passiamo adesso all'ultima partita, quella del lunedì, che è Juve-Croton. Una Juve da provare in blocco dal portiere all'attaccante. Possiamo metterli tutti, però attenzione a un possibile turnover post-Champions League. Nel Crotone, invece, evitiamo tutti perché non mi sento di consigliarvi, generalmente nessuno contro la Juve. Bene ragazzi, il video finisce qui. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciare un like al video se vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video.